Ciao ragazzi, il gruppo sportivo Almoponte si sta preparando per la ripartenza alla grande. Come vedete sono nel nuovo campo insintetico che abbiamo costruito per voi e per voi stiamo migliorando un po' tutto l'impianto. La ripartenza è vicina e ci stiamo organizzando per la ripresa delle attività e programmando già delle iniziative per questa estate. I ragazzi hanno bisogno di socializzare e di riallacciare quei rapporti che in questo periodo sono rimasti sospessi. Tenete duro ragazzi, noi siamo pronti! Ciao! 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 Ciao!